Grazie a tutti. Su un argomento che è evidentemente centrale. Io parlerò sostanzialmente, o meglio, partirò dai contenuti di un libro su cui posso essere vergognosamente autopromozionale per il semplice motivo che è esaurito per cui nessuno in questo momento lo può acquistare. Quindi non deroghiamo nessuna norma. Questo libro si chiama La fabbrica del falso e parla delle fake news prima delle fake news. Nel senso che è un libro che è stato scritto, ha avuto una lunga gestazione, ho iniziato a raccogliere i materiali all'inizio degli anni 2000 e l'ho terminato nel 2008 in prima edizione. Ha avuto successive altre due edizioni, ha avuto un certo successo, diciamo così, l'ultima nel 2016. I tempi in cui è nato non sono del tutto casuali, nel senso che questo è un testo che è nato da una sensazione abbastanza sgradevole e da un'esigenza connessa a questa sensazione. La sensazione era che, in particolare dopo l'11 settembre, il tasso di menzogna nella nostra vita fosse aumentato in maniera abbastanza preoccupante. E l'esigenza era appunto quello di chiarire intanto a me stesso se le cose stavano effettivamente così e, in questo caso, quali erano i motivi, quali potevano essere i meccanismi che presidevano a questo sviluppo che io ritenevo e tuttora ritengo, per la verità, piuttosto inquietante nelle nostre società. In effetti, in quegli anni, pensiamo, ma io direi già all'attacco all'Afghanistan, ma soprattutto all'invasione dell'Iraq, abbiamo avuto un'impennata del tasso di menzogna nel discorso pubblico. Pensate che un pubblicista americano ha contato le menzogne che sono state raccontate agli americani e al mondo per avvalorare l'attacco all'Iraq e ne ha contate 931, ha fatto un libro di 400 pagine. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Quello che mi sono domandato è quali sono i presupposti, no? Perché, se ci pensate, non è ovvio fare uso della menzogna in politica e nell'informazione. Di regola la gente non mente per il gusto di mentire, mente per un altro motivo, perché ha bisogno di coprire una situazione che invece, se fosse conosciuta all'opinione pubblica, potrebbe, diciamo, dar luogo a fenomeni a lui sgraditi. Questo avviene però, e questo è sempre stato vero ovviamente, ma una volta c'era un sistema molto semplice, che era il segreto. Di certe cose semplicemente non si parlava. Erano appunto non note. Noi abbiamo numerosi casi anche di cose veramente importanti, successe anche durante il Novecento, alla fine, che si sono sapute soltanto decenni dopo. E qui c'è una novità che ha a che fare con la società dell'informazione. Il, diciamo, il meccanismo, chiamiamolo così, arcana imperi, cioè, tengo nascosto quello che riguarda la cucina del potere, è complicato. C'è, non dico l'impossibilità del segreto, però è molto più difficile nell'età dell'informazione tenere segreto qualcosa. E allora bisogna fare un'altra cosa. Bisogna appunto non raccontare le cose come stanno, ma anche in questo caso in un modo che raramente è la menzogna frontale. Ma, ed è questo anche l'insidiosità, la pericolosità di certi meccanismi, è la, diciamo, il fatto che si raccontano le cose non come stanno, ma in modo indiretto. Ora, poi proverò a darvi anche una tassonomia, diciamo, di strumenti che vengono adoperati a questo scopo. L'altro elemento fondamentale, però, è, uno è la necessità della menzogna e di questo tipo di configurazione della menzogna. L'altro elemento è la possibilità, diciamo così, tecnico e sociale della menzogna, o meglio, dei caratteri che la menzogna assume nella nostra società. Questa possibilità da cosa è data? Dal fatto che noi abbiamo degli strumenti di informazione che oggi sono capaci, come dire, di darci un'impressione di falsa immediatezza in maniera molto intuitiva. Anche a voi sarà capitato di vedere i documentari storici del passato, insomma, ci sono dei film che oggi si fanno sul passato che sembrano molto più veri dei documentari storici in bianco e nero di determinate vicende del passato. Oggi la capacità di persuasione di determinati strumenti è molto elevata. È molto elevato il tasso, diciamo, di comunicazione iconica, cioè basata sulle immagini, nella nostra società, e questo è un altro problema, ovviamente. Per esempio, una foto può essere assolutamente vera, ma comunicare una verità falsa, per il semplice motivo che una foto è una scelta. Io punto l'obiettivo da qualche parte, non lo punto da un'altra, posso eliminare il contesto, poi farò un esempio abbastanza famoso, forse credo per pochi sarà sorprendente, però è una cosa importante che è successa qualche anno fa. Ci sono altri aspetti, c'è la scomparsa della storia dal discorso pubblico, nel senso che la storia viene sempre più risolta nel presente e se ci pensate anche le ricostruzioni storiche che vediamo, la filmografia più recente, tende a riprodurre un'idea delle società come tutte uguali all'attuale, con alcune passioni fondamentali che sono sempre le stesse, ma in ogni caso come, diciamo, con i nostri valori un po' più sfigati, perché erano un po' più sfigati in un'altra epoca, eccetera. Infine, un altro tema fondamentale è, come dire, la corruzione del linguaggio, cioè il linguaggio è sempre di più a una dimensione, il linguaggio pubblicitario è diventato il linguaggio televisivo, e questo a sua volta è diventato il linguaggio politico. Questo cosa significa? Slogan, pochi ragionamenti, una sintassi estremamente povera, raramente l'uso di subordinate, pensate, orrore, no, pensate, è una cosa complicatissima. C'è anche una lingua molto in uso nel mondo che fa scarsissimo uso di subordinate, e non a caso è la più diffusa attualmente. E infine la morte del significato, cioè la banalizzazione usata come arma, l'indifferenza alla verità, cioè il fatto che qualunque cosa dica poi alla fine è più o meno la stessa cosa. Qui c'è una citazione, è una citazione per cui non sto, non è una cosa mia, da Eric Hambler, è un testo molto bello, mai dire una bugia quando puoi cavartela a furia di stronzate. Ecco, secondo me questo è abbastanza, è una modalità di mentire abbastanza in voga. Ma veniamo ai vari tipi di menzogna. Come funziona la manipolazione della verità in questo senso? Cioè, ripeto, non la menzogna frontale, ma il modo di comunicare una verità che non è quella corrispondente a ciò che è veramente accaduto. Io ho steso qualcosa come sette modi. Allora, il primo, la verità mutilata. Voi tutti avete presente le foto, quando fu presa Baghdad, dell'abbattimento della statua di Saddam. E se avete un vago ricordo di questa foto, vi ricorderete una folla molto grande, no? Che festeggia l'abbattimento di questa statua. Allora, questa foto, curiosamente per un certo periodo era difficile trovarla online, l'originale, diciamo, di questa foto, cioè la foto intera. Perché nei nostri giornali, andateveli a riprendere, se volete fare una prova, è stata data un'immagine molto parziale, o meglio, un'immagine estremamente ravvicinata, in cui si vedeva un soldato americano, un iracheno e poco di più. Perché in realtà la folla non c'era. Era stata fatta in maniera tale, è stata ripresa così vicino a un determinato punto di osservazione, per dare l'idea di una folla festante. In realtà la statua è stata abbattuta dai soldati americani, con alcuni iracheni intorno, e poi gli altri iracheni erano intorno alla piazza, ma molto pochi e molto poco festanti. Questo è un esempio, diciamo, grafico, no? Di verità mutilata. Io ti do un pezzo dell'immagine e tu da questo trai una conclusione sbagliata su quello che è successo. Non in termini di immagine, ma in termini invece di, come dire, racconto e di narrazione, è la verità mutilata classica, per cui io ti dico Tizio ha menato Caio, ma mi dimentico di dirti che Caio aveva iniziato lui a menare Tizio. E in questo caso evidentemente posso tranquillamente, ed è una cosa che poi gli esempi potete immaginarli da soli, che è stata fatta molto spesso nella storia recente, è un modo classico per far sì che l'aggressore diventi aggredito e viceversa. Io posso dire una cosa che tecnicamente è vera, ma comunicando qualcosa di falso. Un altro aspetto è quello che io ho definito la verità dimenticata, cioè il fatto, come dire, che il progetto di Napoleone Bonaparte, che era quello di dirigere monarchicamente l'energia dei ricordi, lui diceva così, ormai avviene attraverso la dissoluzione della storia in realtà, non attraverso l'imposizione di una narrazione specifica. viene tutto, come dicevo prima, attualizzato, il passato viene distrutto in quanto tale e a questo punto anything goes, cioè io posso dire più o meno quello che mi pare del passato e se io dico guarda che no, le cose non stanno così, magari mi trovo in televisione a confronto con uno che dice una totale falsità, è come è successo in vari casi, e se io gli dico guarda che questo è falso, dice no, devi lasciargli dire anche la sua, ovviamente. Un'altra modalità è la verità messa in scena. La verità messa in scena cos'è? Sono eventi, è vero in modo molto pregnante che oggi ci sia la verità messa in scena, ci sono degli eventi che sono organizzati in funzione della rappresentazione mediatica. C'è un episodio famoso, anzi ce ne sono almeno due molto famosi, lo sbarco in Somalia delle truppe americane qualche decennio fa avvenne all'ora dei telegiornali americani e fu fatto appositamente per essere ripreso, fu in realtà inscenato, per essere ripreso e essere rimandato dai telegiornali nell'ora di massimo ascolto. C'è un altro episodio che è molto famoso, è rimasto abbastanza classico come bugia, la famosa messa in scena di Colin Powell e della fialetta di armi chimiche di Saddam. Qui noi tutti ormai, perché all'epoca no, perché all'epoca alcuni dei giornali che oggi sono vessilliferi della battaglia contro le fake news si bevero con tutte le scarpe questa balla, mi ricordo un bellissimo editoriale, bellissimo tra virgolette, editoriale di Ezio Mauro su Repubblica in cui dice, beh ce l'ha detto Powell, non possiamo pensare che sia falso. Perciò c'è anche il principio di autorità che torna in qualche caso, del tutto a sproposito, ma qui la cosa abbastanza interessante è che il discorso all'ONU era una messa in scena, perché anche in quel caso i veri destinatari del discorso non erano i rappresentanti degli stati del mondo, ma i telespettatori del mondo occidentale, principalmente a casa, che assistevano a questa sceneggiata. Ci sono degli eventi che sono stati inscenati in senso stretto, sempre nell'ambito della guerra al terrore cosiddetta, che ci offre un'ampia gamma di esempi, forse qualcuno di voi lo ricorderà, ma è difficile perché è una cosa che è passata all'indimenti paccatoio, a un certo momento è emerso il problema di padiglia e della bomba sporca. Probabilmente manco ricordate questo nome. Questo sventurato era uno statunitense di origine latino-americana, credo, che fu sulle pagine di tutti i giornali, c'è una copertina terroristica dell'Economist con la sua faccia e un fungo nucleare dietro, serviva in quel momento, serviva a lanciare questa cosa per evitare che venissero troppo sul proscenio i fallimenti dell'intelligence legati all'11 settembre. Era un momento di grave difficoltà del governo americano, fu inventata letteralmente questa cosa. Ma forse vi ricorderete gli articoli di alcuni insegni giornali italiani sulla bomba sporca di Villa Borghese. Abitando a Roma, io me le ricordo abbastanza bene, ci fu un periodo in cui praticamente ogni settimana c'era l'ipotesi che ci fosse qualche bomba nucleare che qualcuno faceva scoppiare, pensate un po', a Villa Borghese. Villa, la quale per alcuni suoi pezzi almeno non ha bisogno di una bomba nucleare per avere un aspetto abbastanza miserabile. A volte la verità messa in scena è l'altra faccia di una verità tacciuta e rimossa, c'è un'altra cosa famosa che è rimasta iconica, il bombardamento del 25-26 febbraio del 91 sulla strada che portava a Bassora, prima guerra del Golfo. C'è questa distesa di macchine, ve la ricordate probabilmente? Una enorme distesa di macchine che dava l'idea della potenza dell'attacco americano. Però la foto fu ripresa dopo che un particolare un po' imbarazzante fu levato, diciamo, dallo scenario ed era il fatto che c'erano delle persone carbonizzate dentro questi, evidentemente, dentro queste automobili. Evidentemente era meglio non far vedere questo altro aspetto della guerra. Ovviamente la verità rimossa ha dei casi abbastanza classici. Penso al negazionismo storico, ad esempio, che ha negato lo sterminio degli ebrei. Poi ci sono altre forme che sono, ad esempio, la verità capovolta. Io posso stravolgere la verità e questo è molto più efficace della censura. Attenzione, perché la censura è molto pericolosa. Perché se la censura viene scoperta dice qualcosa di più importante di quello che avrebbe detto la verità data in prima istanza. E allora bisogna stare un po' attenti. Da questo punto di vista ci sono degli strumenti efficacissimi. Un superclassico è il titolo che stravolge il contenuto di un articolo. Ancora nell'ambito, ma sicuramente voi siete in grado di fare molti altri esempi di altro tipo. Ce n'è uno molto bello, un titolo del Financial Times del 23 settembre 2002. Titolo in prima pagina. Gli Stati Uniti promettono di ricostruire l'Iraq. C'è un piccolo particolare che la guerra non era ancora iniziata. Per cui in realtà l'articolo riassumeva in maniera un po' personale il senso di un'intervista con Dolisa Rice che era tutta dedicata alla necessità di una guerra contro l'Iraq. Per cui, diciamo, al termine di questa guerra prometteva questa signora gli Stati Uniti si impegneranno per ricostruire il paese dopo ovviamente averlo distrutto con la guerra. Però il titolo ha omesso questo irrilevante dettaglio per cui chi voleva la guerra era chi voleva ricostruire l'Iraq. Diventava questo. Ci sono casi abbastanza clamorosi di questo. Uno dei casi, degli strumenti più adoperati da questo punto di vista è quella che io ho definito in questo libro la falsa sineddoche. La sineddoche è una figura retorica che è quella per la quale dico ti accoglierò sotto il mio tetto. Qui è la pars portoto, il tetto è una parte della casa ma è una parte caratterizzante della casa nel senso che una casa senza tetto difficilmente la definiamo una casa. Se io invece, prendiamo un altro esempio c'è una manifestazione di un milione di persone ai margini di questa manifestazione tre persone urlano slogan raccapriccianti e io faccio la notizia solo su quello questo è un esempio di falsa sineddoche cioè io praticamente, come dire denigro e soprattutto do l'idea che una cosa di un certo tipo fosse molto diversa. A me è capitato personalmente un episodio di questo tipo ve lo voglio raccontare perché se vogliamo anche abbastanza divertente ero una volta a una manifestazione mi telefona quella che poi è diventata mia moglie e mi dice ma cosa state combinando? Io francamente ero tranquillamente in fila in una manifestazione che era piuttosto ordinata fra l'altro non c'erano particolari dovete smetterla di fare queste cose se magari mi spieghi cosa sto facendo forse ti posso aiutare e praticamente c'erano degli scemi con dei fumogeni in fondo al corteo che avevano un lato degli slogan cretini e questo veniva dato dai telegiornali che erano che si svolgevano più o meno in contemporanea con questa manifestazione come quello che stava avvenendo realmente io di questa la cosa impressionante che io di questa cosa qua ne ho cioè questa cosa l'ho appresa dopo nel senso che pur essendo all'interno di questa manifestazione manco li vedevo questi qua questo però è un esempio che è stato è un esempio diciamo di un metodo che è stato usato molto molto spesso un altro metodo è quella che definisco la verità imbellettata che è l'eufemismo sostanzialmente un grandissimo filosofo dal mio punto di vista almeno la Rochefoucault definiva l'ipocrisia l'onore che il vizio rende la virtù e noi potremmo definire tranquillamente l'eufemismo come l'onore che la menzogna rende la verità cioè io dico parlo come funziona l'eufemismo ma funziona in questo modo un giornale tedesco ha provato a enumerare stiamo parlando della guerra insomma quasi guerra in Siria e cosa che forse non tutti sanno hanno per un certo periodo partecipato anche se discusso al Bundestag se partecipare come Germania i termini usati non sono mai stati quelli di guerra ma sempre intervento militare confronto militare conflitto armato intervento di sostegno missione di solidarietà ovviamente e poi ci sono le cose azione di polizia internazionale difesa preventiva attacco preventivo che equivale ad attaccare un paese che non ti ha attaccato sostanzialmente e quindi è una guerra ai fini diciamo della valutazione dell'ONU è un crimine operazione di gendarmeria eccetera eccetera Henry James diceva che la prima vittima della guerra è la verità e lo è sicuramente dal punto di vista a cominciare dalle definizioni stesse della guerra del resto ci sono stati regalati degli ufemismi fantastici pensate che in realtà sono degli ossimori la guerra umanitaria pensate che meraviglia ma su questo si può andare avanti nel senso che l'evasione mi ricordo una bellissima intervista con Fallonieri in cui dice no scusi lei non può parlare di evasione deve parlare di ottimizzazione fiscale e Galbraith ha scritto un libretto dicendo che riteneva sbagliato non parlare più di capitalismo e che questo termine fosse stato sostituito dalla stampa e anche a livello diciamo scientifico paracientifico dal concetto di sistema di mercato perché riteneva che questa definizione fosse imprecisa e non adatta definire quello che a suo giudizio doveva essere definito col suo nome cioè mondo di produzione capitalistica ovviamente ecco tutto questo noi abbiamo avuto la guerra per la pace che è letteralmente Orwell guerra per la pace l'ha detto Bush Bush Junior ha detto guardate incontrando i veterani le famiglie dei veterani questa guerra che state combattendo è veramente una guerra per la pace questo è letteralmente Orwell infine c'è la verità postuma cioè quella che si scopre dopo rimanendo sempre nello stesso argomento per omogeneità ad esempio che Saddam non aveva le armi di distruzione di massa questa è la verità postuma il vero problema è che il timing in questo caso è fondamentale cioè se io questa cosa la dico la faccio sì che sia resa nota quando deve essere certe cose magari non succedono che si dica dopo insomma ci crea ci crea qualche problema allora perché ho voluto fare questa questa esposizione perché io credo che i pattern della menzogna contemporanea quelli che ritroviamo anche nei social e non soltanto siano gli stessi in realtà cioè le modalità sono proprio le stesse per questo motivo devo dire che mi ha abbastanza incuriosito quando ha cominciato a nascere tutto questo discorso sulle fake news perché io in questo testo per motivi di arretratezza mia forse o del periodo della rete parlo pochissimo nel 2008 non era così tremendamente importante anche per la comunicazione come adesso e ancora meno lo era all'inizio degli anni 2000 anche ma ne parlo spesso attenzione per dire io in rete ho trovato questa cosa che sventisce la verità ufficiale e in effetti una serie di posizioni molto severe sull'intervento statunitense in Iraq e prima in Afghanistan per un certo periodo è stato molto più facile trovarle in rete che trovarle sui media ufficiali ufficiali per cui l'impostazione di questo ragionamento così come è stato configurato sostanzialmente dal 2016 in poi ossia dalla Brexit e poi dalla vittoria inaspettata non per tutti ma per un gran parte delle persone di Trump ossia che c'era un problema fake news che questo problema era localizzato nei nuovi media e nelle reti social a me ha molto incuriosito perché io in realtà spesso nelle reti e in questi nuovi media ho trovato l'antidoto alle fake news della stampa ufficiale per cui mi è venuto il sospetto che questa cosa fosse mossa da un intento diverso da quello dichiarato cioè quello sostanzialmente di ricostruire come dire il discorso mainstream in maniera un po' forzosa nel senso che c'è un discorso mainstream che è molto forte sui media tradizionali questo viene aggirato dalla rete e blocco la rete così mi tengo i miei media tradizionali col mio discorso rassicurante guardate che in maniera molto lata questo è il tentativo che è stato fatto per decenni nei paesi socialisti in realtà c'era una verità ufficiale c'erano delle verità non ufficiali che circolavano nelle forme più varie e credo che ci torneremo anche qui sotto forma di barzellette no ci sono dei libri sono stati raccolti sulle barzellette spesso sono abbastanza divertenti effettivamente escogitate in epoca sovietica in Germania Est e altrove il tentativo di praticamente come funzionava il tentativo era una vera e propria censura di un discorso che non fosse allineato io l'impressione che ho avuta ma poi lo approfondiremo nei prossimi giri immagino è è che si sia fatto un tentativo sia in atto in parte un tentativo di fare qualcosa del genere allora io credo che questo tentativo sia molto pericoloso per un motivo molto semplice che se si va a vedere che cos'è fake news e si decide che c'è un'imputabilità si sa dove si comincia ma non si sa dove si finisce perché ad esempio io ho qua un titolo del Corriere della Sera in prima pagina di del novembre dell'anno scorso deficit pronta la procedura questa è una fake news nel senso che è stato qualcuno si è incavolato e ha detto ma scusate mi fate capire a che punto era questa procedura non c'era nulla di tutto questo il giornalista è stato chiamato a dire ma e la soluzione è stata abbastanza salomonica nel senso che si è detto che un giornalista valuterete voi l'adeguatezza di questa soluzione a mio giudizio abbastanza scarsa un giornalista può fare le sue previsioni c'è un piccolo particolare che questa non è presentata come una previsione del giornalista ma come un fatto e siccome come sapete noi viviamo diciamo a stretto contatto diciamo così che è un modo garbato di dirlo con i mercati finanziari è molto facile fare delle previsioni questa volta che si autoavverano nel senso che se tutti i principali organi di stampa cominciano a dire ah i nostri BTP non li compra più nessuno magari alla fine li compra qualcuno in meno di quelli che li avrebbe comprati anche qui qui siamo in un terreno più scivoloso perché non stiamo parlando di menzogna però io lavoro nel settore finanziario molto presenti tutti i titoli in prima pagina del Sole 24 Ore sul fatto che i nostri BTP poverelli visto che c'è un governo di responsabili non li compra più nessuno dopodiché l'altro giorno trovo che questo articolo Banca Italia investitori esteri comprano bot dico notiziona però è a pagina 17 ed è qua non è in prima pagina allora ecco questo per dire cosa per dire una cosa abbastanza semplice è veramente molto difficile se si imbocca la strada come dire di una responsabilità penale in qualche modo comunque capire dove si va a finire nel senso che io personalmente se mettessi assieme le volte in cui il BTP non veniva comprato e andava in prima e quelle in cui è andato a pagina 25 posso costruire un dossier e dire beh questa non è un'informazione corretta non saranno fake news in senso tecnico ma chi se ne frega il risultato è esattamente lo stesso un'ultima cosa che a me preoccupa è il fatto che alla diciamo attenzione verso le fake news non si è accompagnata una solidarietà sufficiente ma direi una solidarietà to cure nei confronti di chi invece ha rivelato delle verità voi sapete che Assange che ha l'unica colpa di aver rivelato delle cose vere fornendo notizie a miriadi di giornalisti poi molti di meno le hanno usate ovviamente però le notizie stavano lì viene accusato attualmente addirittura di tradimento negli Stati Uniti come qualcuno aveva previsto tutti dicevano no ma figurati se gli Stati Uniti è stato incolpato mi pare ieri l'altro di tradimento che come voi capite presenta alcuni aspetti dal punto di vista della pena abbastanza seri della pena potenziale ecco da questo punto di vista io ho trovato abbastanza curioso che i nostri giornalisti più ferocemente come dire attivi nella campagna contro le fake news non solo non abbiano prestato la loro solidarietà a chi aveva rivelato provatamente delle verità ma abbiano se siano uniti al coro dei denigratori cioè di chi dice era un servo dei russi o cose di questo genere quando è assolutamente provato che non c'entra proprio niente con i russi Assange ecco io credo che su questi temi sia utile riflettere forse provando a allargare lo sguardo in questo modo cioè facendo cominciando a ragionare perciò di fake news in termini trasversali ai media e non rivolgendosi a uno specifico esempio diciamo e non 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 e i social da questo punto di vista il discorso di fake news deve essere onnilaterale se lo si vuole fare e in secondo luogo riflettere su alcuni eventi o ve ne ho citato uno abbastanza clamoroso che è una guerra insomma che ovviamente ha delle conseguenze molto molto gravi no sulla vita e le morte delle persone però potremmo citare casi analoghi anche ad altro ad altro riguardo cercare ecco di riflettere secondo me il vero tema io vi dico guardate vi dico già come la penso io proprio in una in una frase io credo che il migliore antidoto alle menzogne sia l'opinione pubblica critica cioè la possibilità e che e credo che precisamente per questo motivo molti vedano nei social e in media non tradizionali un rifugio contro le menzogne o le verità imbellettate appunto dei media dei media ufficiali credo che nel discorso pubblico debbano confrontarsi le opinioni e debbano essere verificate le 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 verità credo che non sia impossibile farlo questo io non sono un indifferentista credo che anche dal punto di vista ontologico la verità esista ma questo è un altro discorso credo anche che se anche uno pensa che non esista da un punto di vista ontologico può fare come popper e dire che esistono le menzogne anche se lui non sa che esista la verità come un oggetto da qualche parte eccetera questo discorso per la verità da un punto di vista filosofico è stato molto sdrammatizzato negli ultimi decenni si parla appunto di deinflazionare il concetto di verità insomma ci sono degli studi abbastanza interessanti su questo però ecco il mio tema è questo cioè primo trattare tutti i media indifferentemente secondo appunto allargare un po' lo sguardo a quello che è successo nelle nostre società e al motivo per cui a un certo punto su alcuni argomenti le menzogne sono diventate più frequenti grazie scusate per la lunghezza grazie